Il Leicest qui riposa Raffaele, da cui finché visse la natura temete di essere vinta, e ora che egli è morto, teme di morire con lui. Nel 2014, Musei Vaticani 3D è il film d'arte più visto nel mondo. Nel 2015, Firenze e gli Uffizi 3D è campione di incassi in Italia e vincitore del nastro d'argento. Nel 2016, San Pietro e le Basiliche Papari di Roma 3D svela a tutto il mondo i tesori della città eterna. Aprile 2017. Dagli stessi produttori arriva il primo film sul genio immortale di Raffaello Sanzio. Visiterete in esclusiva i luoghi che lo videro protagonista. Viaggerete nel tempo attraverso raffinate ricostruzioni storiche per rivivere la sua vita. Ammirerete, come mai prima, più di 50 opere d'arte custodite nei musei più prestigiosi. Per scoprire l'uomo il cui talento fu temuto da natura stessa. Ho contemplato le opere dei più grandi artisti. Ho incontrato i potenti e da loro sono stato ammirato. Tutto inizia da qui. Origine della mia esistenza. Rifugio della mia anima. Raffaello, il principe delle arti, in 3D. Il 3, 4, 5 aprile, al Cinema. Info e biglietti su nexodigital.it s Diamante. pobracci. Raffaello, il principe delle arti, in 4 riscianne delle arti, in 4, 4, 7, 6 e, 6 og 7. Grazie a tutti